Federico! Federico, non ti cercasi! Ehi, vale! Ciao, effe! Come stai? Ma bene, dai, diciamo abbastanza bene. Avrei voglia di uscire tantissimo, di immergermi nel verde, perché dopo questa quarantena ho voglia di riassaporare un po' il fuori. Però è difficile, non so dove andare. Di verde ho solo questo. F, io invece ho tutto questo di verde. Sì, ma dove sarebbe? Perché ti propongo, ti propongo Giardino Valdichiana. Ah, Giardino Valdichiana, lo conosco, l'appuntamento dell'estate, giusto? L'appuntamento dell'estate e anche quest'anno, nonostante tutto, Giardino Valdichiana c'è, perché non c'è estate senza Giardino Valdichiana. Ma ti dirò di più, ti voglio aggiungere altre tre parole interessanti. Coltiviamo la ripartenza. Bello, figo. E di che si tratta? Si tratta di raccontare quello che succede in Valdichiana dalla ripartenza. Ovviamente sappiamo tutti che la ripartenza dopo la fase 1 è difficoltosa per tutti. Ma noi vogliamo raccontare quello che succede in Valdichiana, perché ovviamente siamo obbligati da qui in poi a vivere in una determinata maniera, con delle determinate restrizioni. Ci dobbiamo rinventare la nostra vita quotidiana, qualsiasi aspetto della nostra vita non sarà più come prima. E allora noi cerchiamo di raccontare quello che succede in Valdichiana dal punto di vista creativo. Diamo delle soluzioni e delle idee per vivere in maniera diversa da quello che era prima, perché ovviamente quello che era prima non tornerà più. Ti piace come idea? Bellissima, tra l'altro potrebbe essere anche un modo per raccontare la Valdichiana dal punto di vista diverso rispetto a prima. È la nostra chance, ci sto, ci sto, verrò a Giardino Valdichiana, verrò adatti a Giardino Valdichiana. Ti garba come idea, di la verità, ti ho risolto l'estate. Perfetta, perfetta, almeno le basse settimane. E allora diamo appuntamento a tutti i nostri telespettatori, social spettatori, insomma follower, tutti venerdì alle ore 18 circa, più o meno, in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Valentina Chiancenesi e Federico, dove sei? Di qua. Federico Dondi vi racconteranno la Valdichiana e la ripartenza della Valdichiana. Quindi F, tu porta le idee, al resto ci penso io. Ci pensa sempre la Valentina. Sì, sì, a questo punto manca solo da dire una cosa, giusto? Giusto, seguiteci e ovviamente dovete entrare nel club, nel club della Valdichiana, che sul nostro giornale trovate tutta la procedura per far parte della nostra redazione. Abbiamo detto tutto? Penso di sì, quindi a questo punto l'appuntamento è al 29, venerdì 29 febbraio, stavo scelto. Tu ancora sei rimasto anti-lookdown, di la verità, eh? Sì, sì, sì. Allora, vai. Allora, mi raccomando, appuntamento Giardino Valdichiana, ore 18, tutti i venerdì sulla pagina Facebook e su YouTube della Valdichiana. Ciao F! Ciao a tutti.